buongiorno sei svegliata sono fantastiche queste orecchie oggi sarà una bellissima giornata andremo al parco incontreremo i nostri amici e dobbiamo essere bellissime c'è anche quel cagnolino che ti piace tanto parli di jack coda mozza ma siamo solo amici e poi gli puzzaralito vettiniamo anche la coda che imbarazzo brava vera adesso basta mi hai spennato come una gallina non ne posso più quando usciamo un po di profumo nessun cagnolino potrà resistere oh no ma cos'è sta roba muzza non la voglio lo sai bene che mi piace solo il canel numero 5 andiamo ora lo sai vera cosa dobbiamo fare per essere più carine no indossare questo questo è troppo è ridicolo no non ti mangia questo il frontino bellissimo glitterato se proprio insisti si sta facendo notte ci sbrighiamo adesso sei perfetta quindi possiamo andare yuppie se il video ti è piaciuto metti like iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi episodi è semplicissimo ciao